Clamoroso regà, clamoroso, 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 clamoroso secondo la gazzetta dello sport, clamoroso continuiamo ad avere degli sviluppi a tratti drammatici, ad altri tratti insomma un po' particolari di quella notte lì, la sera in realtà più che notte perché erano le 9 e qualcosa di sera quando arriva l'ufficialità della decisione in pacco, quindi in toto di dimettersi di tutto il CDA di tutto il consiglio d'amministrazione della Juventus e quindi l'addio di Agnelli e quindi l'addio di Nedved e quindi l'addio di Arriva Bene di tutte le parti facente parte, scusatemi, la ripetizione del gruppo del consiglio d'amministrazione, però oggi la gazzetta dello sport lancia una bomba, una provocazione che insomma ci fa capire dove si è arrivati in quella situazione lì, ma prima di iniziare iscrivetevi al canale mi raccomando se non l'avete già fatto, chi non si iscrive al canale non arriva a Natale come vedete Agnelli non si era iscritto al canale quindi non è arrivato a Natale, ha dato le dimissioni prima esattamente come tutto il CDA, lasciate anche tantissimi mi piace qui sotto allora già ieri, già ieri era esplosa la bufera che poi io mi domando e dico no? ma io mi domando e dico no? come dice un detto, come dice un detto no? è facile col culo dell'artri, nel senso, nel senso adesso la Liga attacca la Juventus, vogliamo delle pesanti sanzioni, vergogna, così falsano il calcio serie B, penalizzazioni, fuori dalle competizioni europee, ora immediatamente ragazzi, allora, quello che sta facendo Tebas, quello che sta facendo la Liga è una buffonata perché io capisco benissimo che servano delle sanzioni, io capisco benissimo che ci sono state delle parti incriminate che hanno fatto degli errori che devono pagare, ma va bene, ma va bene, ma non è un problema, ma va bene però regà, però regà, e dai, ma parla proprio la Liga, ma parla proprio la Liga che va a fanculo il Barcellona, il fuoco di paglia del Barcellona che non può ottenere Messi però poi può permettersi di comprare Cristo e la Madonna senza avere un euro cioè ma di che parliamo? Un Barcellona in crisi nera che vende anche il culo e le mutande per prendere Robert Lewandowski dopo che è uscita il Gironi di Champions e poi puntualmente riesce ai Gironi di Champions cioè io penso che se andassimo a vedere i conti del Barcellona non sarebbero il rosso cioè sarebbero proprio nella lava e di che parliamo? Ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Ma mi fa ridere, mi fa specie che il caso più eclatante, penso, della storia del calcio ovvero una squadra della Liga Spagnola, quindi il Barcellona ragazzi, questo è il caso più eclatante, eh cioè il Barcellona sono due anni che spende e spande come se non ci fosse un domani una volta perché si inventa di vendere i diritti una volta perché si inventa di mettere a disposizione una volta perché si inventa di vendere il culo fatto sta che ogni mese puntualmente il Barcellona vende qualcosa perché non ha un equilibrio stabile e ad una squadra di un rango così alto bisognerebbe stabilire un equilibrio abbastanza alto il Barcellona non ce l'ha, nonostante ciò non ha attuato un piano di ricostruzione di vendere e acquistare, sì certamente appunto hanno dato un sacco di giovani perché poi la Nazionale Spagnola ha una marea di giovani del Barcellona da Ansufati a Gavi passando per Pedri e tanti altri manco me li ricordo quindi ce li ha ma questo non toglie che il Barcellona cioè sta continuando a farla più sporca della merda da anni e quindi io non voglio difendere la Juventus a me non me ne frega nulla sinceramente di difendere la Juventus anzi io sono rumanista, punta la Champions e quest'anno si svegliano e dicono proprio per questo daremo 15 punti di penalizzazione della Juventus e me la ricacciano dietro e dico eh la madonna è un assist meraviglioso ok però parliamoci chiaro, cioè siamo sinceri sì ok sicuramente la Juventus non l'avrà fatta pulita tant'è che ora sono negati e hanno dovuto dare tutte le dimissioni ma non mi sembra che il Barcellona sia sempre stato così tanto pulito fino a questo momento e allora io capisco se parlasse il presidente della Bundesliga visto che il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund eccetera 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 sono anni che hanno i conti in verde sono anni che fanno bene nonostante vendano puntualmente e non spendono mai soldi grossi, soldoni su soldoni ma qui pare che si venga fatto pare che venga fatto solamente perché al tempo gli portarono via Cristiano Ronaldo raga però, però cioè mi sembra una rosicata bella e buona cioè mi sembra come il bambino che ti ruba il giocattolo e quando poi fa un danno tu dici alla madre picchialo, picchialo che si è comportato male ma di che stiamo parlando? ma di che stiamo parlando dai? e la notizia clamorosa del giorno la notizia che fa più scalpore è quella che lancia la gazzetta dello sport che è sempre rilevante e fa sempre riferimento a quella notte là infatti ovviamente dopo che Agnelli eccetera si sono dimessi sono sceliti tutti i meme con tipo Allegri che torna alla continassa dopo la posa mondiale c'è tipo tutto il fuoco e lui dice che succede? dove siete tutti? eccetera e un sacco di meme in cui Allegri non si accorge di niente invece, ovviamente come normale che fosse Allegri si è accorto come e non è che questa cosa gli fosse piaciuta granché tant'è che secondo la gazzetta dello sport Allegri avrebbe presentato le sue dimissioni alla Juventus appena ha appreso della decisione del CDA quindi appena ha sentito che il CDA, il Consiglio d'Amministrazione quindi Agnelli, quindi Nedved, quindi arriva bene se erano dimessi lui ha presentato anche lui le dimissioni e quindi Allegri ha chiesto di non essere più l'allenatore della Juventus e questa è secondo me una notizia importante soprattutto perché ci fa capire la dimensione di quello che è successo e del legame solido che c'era tra Agnelli e Allegri cioè un legame che portava Agnelli a dare fiducia incondizionata ad Allegri nonostante i risultati maturati sul campo un po' come degli Juventini, tifosi dicevano perché si lamentavano dicendo non è possibile che tu giudichi in base all'amicizia tu devi giudicare in base ai risultati sul campo non puoi giudicare in base all'amicizia e questa è una cosa che ai tifosi non è rimane da giù dall'altra parte Allegri che in questo momento non ha colpe perché la Juventus, che se ne dica, è terza in classifica attaccata al Milan ed è in una posizione che comunque gli compete per una ricostruzione che Allegri sta mettendo in atto ecco, Allegri nonostante questo ha dato le dimissioni ragazzi ha dato le dimissioni si è proposto di lasciare la carica si è proposto di allontanarsi dalla Juventus dopo l'addio del CDA e questo secondo me, insomma, è un discorso da abbracciare con otto mani e con otto braccia e la casetta dice le sue dimissioni sono però state respinte e il tecnico è stato convinto a restare quindi questo mi fa capire anche come in questo momento anche la proprietà successiva proprietà per modo di dire perché poi la Juventus è di proprietà Exor è sempre di proprietà Exor rimane quindi sempre più o meno degli agnelli rimane perché Exor è comunque agnelli sono tutti imparentati però comunque con il nuovo presidente con i nuovi dirigenti con il nuovo CDA e tutto quanto Allegri rimane il punto di riferimento lui ha presentato le dimissioni e ha detto no, le dimissioni non te le accettiamo e è difficile che non vengano accettate le dimissioni cioè se oggi di punto in bianco che so, Murigno si dimette la Roma le accetta perché non si può andare avanti un alleatore che non vuole andare avanti quindi probabilmente le dimissioni di Allegri erano dimissioni di un tecnico che doveva dare un segnale alla sua vecchia proprietà alla sua vecchia società al suo vecchio consiglio d'amministrazione un segnale che però sono state prontamente rifiutate perché? perché la Juventus ha un'idea nella testa cioè andare avanti con Massimiliano Allegri sia con Agnelli che senza Agnelli sia con Nedved che senza Nedved sia con Arrivabene che senza Arrivabene l'idea di base è quella di andare avanti con Allegri in panchina ed è per questo che poi Allegri è stato convinto a restare per un progetto che magari per la Juventus magari non per me che ti forma ma magari per la Juventus possa essere più solido possibile anche in futuro però vi dico la verità mai mi aspettavo che Allegri avrebbe dato le dimissioni mai me l'aspettavo per il discorso della Spagna io ci tenevo a gettarlo dentro con due paroline ma quello ragazzi è discorso abbastanza vergognoso quelli che chiedono i punti di realizzazione della retrocessione e tutto quanto quando alla fine quando alla fine regà veramente vi ripeto vi ripeto col culo degli altri sono buoni tutti però mi pare che nessuno abbia penalizzato il Barcellona nessuno abbia dato il Barcellona è rimasto lì è intoccabile cioè non ha ricevuto punti di penalizzazione non ha ricevuto limitazioni nelle coppie europee ogni volta è uscito è uscito per i cazzi suoi non ha ricevuto retrocessioni né niente di questo tipo non ha ricevuto nemmeno blocchi sul mercato perché ha perso Messi perché non c'era i soldi per pagarlo per le regole della Liga ma dopo ha preso Lewandowski dopo ha preso ha preso tutta una squadra intera cioè il Barcellona avrà comprato 12 giocatori nell'ultimo anno e mezzo cioè ma quindi ma di che parliamo e giocatori che avrebbero fatto comodo i big club europei perché io penso che vabbè a Madrid c'ha Benzema però gli avrebbe fatto comodo Robert Lewandowski il Barcellona ha preso Rafinha il Barcellona ha preso ha preso che sì il Barcellona dietro ha rifatto tutta la difesa interamente da attrezione a sinistro veniva la difesa centrali ha presi tutti cioè quindi ma di che parliamo ma di che parliamo regà ma di che parliamo e poi loro loro fanno i grossi parlando della Juventus cioè a me mi è sembrata una mezza roseata perché hanno torto Cristiano Ronaldo e stop comunque fatemi sapere la vostra iscrivetevi al canale io vi ringrazio tantissimi mi piaci buon c'è la l'alene come sempre ci vediamo ad un prossimo video grazie a tutti grazie a tutti